we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi wow wow video super interessante quello di oggi perché stanno cominciando a succedere cose davvero mega incredibili sul nostro fortnite in questa season 9 a dispetto della season numero 8 dove in realtà l'evento sebbene meraviglioso sia stato uno solo in questa season ragazzi si è già visto nei file di gioco il nuovo evento che prossimamente e secondo me anche molto presto inizierà ad animare la nostra il nostro gameplay parleremo appunto di questo in questo video ma parleremo anche del nuovo fucile finalmente vengono scoperte anzi vengono inserite nei file di gioco alcune statistiche relative alla rarità ai danni al corpo agli headshot ai danni alle strutture questo vuol dire che probabilmente se non nella patch 9.10 che dovrebbe arrivare ma nella 9.20 potremmo finalmente vedere l'ingresso del nuovo fucile con mirino tra l'altro collegato a una roba interessante ve la dico nel video che si collega ragazzi alle info extra per quello che riguarda john wick insomma tanto di cui parlare in questo video ma prima voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone nello shop grazie di cuore ragazzi per scioppazzare di prepotenza con il mio codice per supportare il canale non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima aiiaia c'ho la domandina da farvi lo sapete che io ci tengo ragazzi a farvi la domandina i vostri commenti qua sotto dai che li leggo è domanda molto semplice ma te cosa ne pensi delle correnti d'aria insomma questo nuovo metodo che oramai ci abbiamo preso dai la roba per utilizzarlo abbiamo capito bene come ci si muove voi cosa ne pensate ragazzi una minchiata utili allora secondo me se si utilizzano per muoversi ad esempio quando rimani in un fight e hai la safe gg trovi un condotto d'aria e di prepotenza il più delle volte riesci a salvarti secondo me non sono neanche così fastidiosi pensavo davvero peggio a inizio della season e invece si stanno ci stanno perché comunque senti quando c'è dentro qualcuno hai modo di colpirlo a me piacciono voglio sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere prima e le prime immagini del quartiere che secondo me tra poche ore sostituirà il nostro yacht presente appunto nella sezione the block di fortnite lo avevamo già visto quando abbiamo scaricato ovviamente la patch della season 9 questa è un'immagine dall'alto ma abbiamo anche qualcosa di più ragazzi alcune immagini esclusive del modello proprio in 3d che verrà inserito in game ed è davvero carino una mini city a me piace ecco i quartieri che hanno le mini city a me piacciono ragazzi ci sono camion che portano altri veicoli abbiamo visto una rampa con la macchina della polizia stiamo intravedendo ragazzi guardate proprio una piccola città 5 6 casette l'ospedale addirittura una casa con il tetto in mattoni insomma bello 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 a me piace tanto già visto così non vedo l'ora di atterrarci sopra e di provarlo perché a me i quartieri piacciono tantissimo e reputo che l'inserimento di location sempre nuove ogni manciata di giorni sia il punto chiave per il mantenimento di fortnite bello sempre dinamico ma andiamo avanti ragazzi e voglio anche farvi vedere una cosa per pochi secondi questa è un'immagine che ho trovato in un mio vecchio video di quattro mesi fa ragazzi quattro mesi fa vi avevo detto che c'era una cartella che si chiamava delete non so se la vedete bene sicuramente no perché un po' sfocata nella cartella delete c'è scritto l'ancora più a destra shotgun questo vuol dire che noi già quattro mesi fa sapevamo che il fucile a pompa sarebbe stato eliminato ma nessuno me compreso ci aveva creduto e invece ragazzi la cosa purtroppo si è avverata una piccola curiosità ma cominciamo ragazzi a parlare un attimo e a fare chiarezza su quello che sta succedendo in game insomma una televisione una sola ragazzi nella casa vicino a spiagge snob avete presente spiagge snob ecco la casa più in alto quella che c'è prima del bosco con l'ex accampamento dei pirati all'interno ha una televisione con sopra l'immagine che già vi avevo spoilerato sempre il giorno in cui avevamo scaricato la season 9 il lama ragazzi con una serie di frecce in movimento avevamo già visto nella season 4 questo lama non proprio uguale forse sì in realtà e annunciava l'evento la tempesta e non so se lo ricordate nella season 4 nella season 5 ora non ricordo però il campanello di allarme ragazzi ce lo dà perché potrebbe davvero arrivare questo nuovo evento e potrebbe essere l'evento collegato alle wix bounty quindi a tutto il tema john wick voglio farvi vedere innanzitutto per chiarirvi ragazzi questa è un ritaglio di mappa guardate dov'è il ping il là in alto in alto a sinistra in alto a destra c'è proprio la casa di cui vi parlavo magari se andate a vedere trovate di nuovo la televisione accesa ma la cosa realmente interessante ve la faccio comunque vedere due secondi nel nel suo gameplay eccola qua ragazzi siamo nella casa e come vedete l'animazione è davvero molto molto simile a quella che già avevamo visto parecchie season fa come vi anticipavo poco fa quello che vi volevo dire ragazzi era che guardate un po che similitudini ci sono in game relative al nuovo film di john wick che sta per uscire nelle sale partiamo dall'alto la villa ragazzi la villa è davvero super simile alla villa che è stata creata dietro a palmetto paradisiaco dove c'era quella specie di casa diroccata piccolina un po brutta ecco c'è una villa incredibile ed è davvero simile a quella di john ma l'elemento numero due forse uno dei più importanti è proprio il fucile che tiene john sostanzialmente simile al nuovo fucile a pompa che tutti stiamo utilizzando e che tra l'altro devo ammettere adesso funziona molto meglio con i problemi che hanno risolto nelle ultime ore come già vi anticipavo nel video di ieri ultimo ragazzi un'altra immagine presa dal film john che spara con un fucile con il mirino eccolo lì ragazzi fucile con il mirino che sta per arrivare potrebbe anche essere un'arma esclusiva per la ltm che poi rimarrà in game non lo sappiamo io credo in realtà che sia semplicemente un'arma nuova che verrà aggiunta in game altre notizie interessanti finalmente riesco a farvi vedere i codici le stringhe di codici ufficiali presenti che ci fanno capire come allora assassin suite praticamente è john wick ok l'assassino chiamatelo un po così si chiama john assassino mietitore come volete ragazzi backpack nuovo emote nuova umbrella quindi il deltaplano nuovo wrap quindi anche una skin per armi e veicoli non si parla ragazzi di skin secondo me la skin non arriva arrivano queste cose ma non la skin e per chiudere ragazzi ecco qua non riesco a farvi vedere le statistiche dell'arma mi sa ma per chiudere ragazzi ecco qua due righe trovate da pochissimo che stanno ad indicare sono sotto una cartella che si chiama ge vuol dire game event è una cartella che viene utilizzata dagli sviluppatori per testare ed inserire poi tutti i file relativi agli eventi dinamici in game wax hotel pacify added non so se si pronunci pacify comunque nuovo hotel wax non so cosa dirvi potrebbe essere quello e soprattutto ragazzi item consumable slurp juice il nostro succo slurp verrà molto probabilmente sostituito da quello che abbiamo tutti visto nella schermata di presentazione nel trailer di presentazione della season 9 e ovviamente non vedo l'ora di saperne di più per farlo sapere anche a voi beh ragazzi io mi scuso se non vi riesco a far vedere l'arma ve la farò vedere meglio nel video di domani vi ringrazio per avere guardato questo bel pollicione in su condividetelo iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 live ciao ciao